Oggi condivido con voi alcune esperienze personali da docenti di scuola superiore su come l'intelligenza artificiale può aiutarci nella didattica rendendola più inclusiva, stimolante e creativa. Ci concentreremo in particolare su tre aree chiave in cui le AI può fare la differenza. La creazione di materiali didattici personalizzati, la progettazione di verifiche efficaci e lo stimolo della creatività degli studenti. Le AI può aiutarci a superare le sfide della didattica differenziata, permettendoci di creare materiali didattici adatti alle esigenze di ogni studente. Immaginate di poter caricare un testo complesso e con pochi clic ottenere versioni semplificate, adatte a diversi livelli di apprendimento o corredate da immagini esplicative. Questo è possibile grazie a modelli di AI in grado di analizzare il linguaggio e adattarlo a specifici bisogni educativi. Utilizzate un modello di AI per semplificare un articolo scientifico, rendendolo accessibile a studenti con difficoltà di lettura. Caricate un testo storico e chiedete all'AI di generare una mappa concettuale interattiva per visualizzare le relazioni tra gli eventi. Inserite un brano letterario e lasciate che l'AI crei illustrazioni personalizzate per simulare l'immaginazione degli studenti. L'AI può essere un valido supporto nella progettazione di verifiche che valutino realmente le competenze degli studenti. Invece di limitarci a testa a crocette, possiamo utilizzare l'AI per generare domande aperte, tracce di riflessione o prove di competenza basate su scenari reali. Caricate un paragrafo studiato in classe e chiedete all'AI di creare domande a risposta multipla con diversi livelli di difficoltà. Fornite all'AI una serie di concetti chiave e lasciate che generi tracce per elaborati scritti o discussioni in classe. Utilizzate l'AI per creare simulazioni interattive in cui gli studenti debbano applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi concreti. L'AI generativa sta aprendo nuove frontiere nella didattica creativa. Modelli in grado di creare immagini, musiche e testi possono essere utilizzati per simulare l'immaginazione degli studenti e incoraggiarli a esprimersi in modi originali. Chiedete agli studenti di descrivere un'emozione o un concetto astratto e utilizzate un modello di AI per generare immagini o video che lo rappresentino visivamente. Lasciate che gli studenti sperimentino con la creazione di musica generata dalle AI, esplorando diversi stili e strumenti. Utilizzate l'AI per generare spunti creativi per la scrittura di racconti, poesie o sceneggiature. L'intelligenza artificiale non è qui per sostituire i docenti ma per ampliare le loro possibilità. Sfruttando il potenziale dell'AI possiamo creare esperienze di apprendimento personalizzate, coinvolgenti e stimolanti per tutti gli studenti. Il mio invito è sperimentare con gli strumenti che ho appena presentato e scoprire come le AI possa diventare un prezioso alleato nella didattica quotidiana. Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze con le AI in classe, lasciate un commento per continuare questa conversazione insieme. Ricordate che l'intelligenza artificiale è uno strumento in continua evoluzione. Restate aggiornati sulle ultime novità e non abbiate paura di sperimentare. Restate aggiornati sulle ultime novità e non abbiate paura di sperimentare.